In questo video è successo veramente di tutto, fa morire dal ridere, perché con i Lucky Block sono successe delle cose incredibili. Anzi, mi raccomando, lasciate un like se volete che io faccia altri episodi, ma signori, vi lascio al divertimento, preparatevi alle risate. Ok, fili la pecora e maestro Kett, siete pronti in questa sfida dove abbiamo i pilastri della fortuna, ma letteralmente la fortuna viene data da sotto di noi, perché abbiamo tutti i Lucky Block casuali. E io non... e mi sa che tu hai... vabbè, e sfidare Kett nella fortuna forse è la... Manco io scherzo, e invece mi sa che... ok, noi... oh, ottimo blocchi, ottimo blocchi. Noi questa volta non avremo blocchi casuali che ci verranno dati nell'inventario, ma dovremo basarci su quello che ci succede. Cos'è... cos'è mio successo? Mi sono morti tutti i cazzi. Ragazzi, è lo staff che ci ha sistemato il giorno. Io vedo tutto a buio. Sei caduto? Godo, meno uno. Ma come è buono, eh? Nel villaggio! Io non vedo niente. Eh, Kett, non ti vedo. Ma che è successo? Kett, io vedo tutto a buio. Tu dove sei? Non ci sei più. Sono respawnato. Come sei respawnato? Hai perso. Mettiti in non barare. Io non ti vedevo, perché era tutto a buio, ma hai perso. Ok, bravo. No, 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 sono vivo, sono vivo. Quindi è già uno, io no. Ma, ma, mia raga, ma qui sarà più una gara, mi sa sopravvivere. Ah, ma devo andare verso di te. Sì, però se tu hai l'Henderperl... Io ho capito ora sta cosa. Io pensavo che era solamente una resta e basta. No, no, ma va, no, no, no. No, ma tu possa la quella Enderperl? Non ho fatto i fatti due. Non ti conosco. Vogliamo diventare amici. Questa non si può trasformare in blocchi. E niente, devo per forza rischiarmela. Blocchio ancora. Ma io sono in mega PvP su Minecraft, ricordati, non è vero. Manco so come si prende una spalla. Oh, l'Hender Dragon. Essere forti significa essere forti. Eh, penso di essere proprio morto, lo sai. Oddio, Cat, quando l'hai detto ho trovato il piccone dell'eroe. E Don, mi penso che hai vinto proprio tu perché sto morendo, guardami. Stai morendo? Vengo a mettere fino alle tue sofferenze, tranquillo. Aspetta, oddio, ho usato la Enderperl? No, 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 sto scherzando. Mi ricorda, Domi, tu sei l'eroe. Sì. Ti l'ha detto pure il sensei. Allora, scusa, ma perché stai tifando domino a me? Questa cosa non va bene. Perché è il piccolo dell'eroe. Ma io ho la pala dell'eroe. Ma ho trovato una cesta. Ma è più importante il piccone. Infatti, oh, ok. Eh, la spada. No, ho perso la spada. No. Godo. Che godi. Ciao, Domi. Che godi. Che godi, cosa godi, Dibbolo? Cosa godi? GG, 1 a 0 per me. 1 a 0 per me. Non vale così, dai. Io voglio fare amicizia. Ok. Ok. Secondo round. E GG per me. Io sono... Ma cosa ho detto? Io prima che gli inserò a Rec ho detto tanto io schiatterò subito. Signori, tu ho il drago dell' Ender. Non so cosa mi serve. È un uovo, non ti serve completamente nulla. Mamma mia, Bob, ho trovato. Bob, sei calmo. Saluta, Bob. Ok, no, questa cesta è completamente inutile. Ma è un castello. Ma è un castello. Ma è un castello. Vabbè, io non ho parole. Ho la mia fortezza. Vabbè. Vabbè. Abbiamo già capito chi è che è fortunato in questo round. Appena l'ho detto. Non l'ho visto? Ah, no. Si sta salvando. No, non c'è. Esatto, c'è uno slime. No, è di nuovo che non vedo nulla. Vabbè, io so che ti dico. Mentre che non vedo nulla... Oh, buonissimo. No. Dove sono i blocchi sotto? No. Aiutatemi. Aiutatemi. Oh, zio, non ci credo. Menomale. Sono fortissimo. Sono fortissimo. Ragazzi, guardate cosa mi ha sponato. Vabbè, fili. Ma io non vedo. Non posso vedere. Ma come lo puoi vedere? Eh, sono in slowness per altri 0 secondi. Ok, che cosa... Ma... Guardami. Ho proprio un blocco gigante di mare. Ma ha trovato una fortezza, il bro. Eh, ragazzi, il mio pillare è stato un po' griffato. Sono un po' più sotto rispetto a voi. Non so se ci avete fatto caso. No, 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 no. Che succede? No, 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 no. Ero in una stupola. Gg. Gg, 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 gg. Eh, io sono un attimo in difficoltà perché non posso più farmare. Perché ho trovato la trappola della lava. Eh, quindi sono un attimo bloccato così io in questo momento. Ma io manco posso arrivare sotto i blocchi perché non so se... Però non mi apre la cassa. Allora, prendo tutta quanta la lava e la sposto tutta quanta in un unico blocco, cioè qua a destra. aiuto non è che c'è qualche blocco sopra la blocca questa casa non aprirò però quello c'è l'acqua ti puoi salvare no non mi sono salvato ascolta non gioca a minecraft un paio di anni non scorciare certo questa è la classica scusa di tutti i nabbi ma io sono un po in difficoltà in questo momento perché ma io più mi lamento più divento forte lamentati domi vedi che funziona il problema è che ma si devo continuare a dire questa parola no chi ha trovato io ho bisogno di blocchi vabbè però non così tanti c'è non questi blocchi gioco ho buttato per sbaglio le tnt avevo trovato le tnt cat sappi lo sei molto fortunato giovanotto facciamo una cosa siccome io il mio qui l'ho completato l'ho fatto sono sceso un po troppo in basso con il mio pillar vorrei andare a prendere le ricchezze del bro che è morto anche perché mi sta salendo dai non ce l'ha penso calma via 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 di qua no ma quanti blocchi hai tanti infiniti bro no sei buono no non ci credo godo onesto la mia onesta reazione no come l'hack potion meno 100 mi sa che non è positivo il meno 100 no penso proprio di non lo sai no cani ho trovato di cani amici i miei cani amici non amicano più tutti sono morti tutti non è rimasto più nessuno e vabbè c'è un sacco di rava c'è una jujutsu kaisen reference ne sei sicuro di quello che vuoi fare io ti vedo lì sopra eh guarda che io sono messo molto bene espansione del dominio bomba solo una però ok meno male che quel blocco mi ha salvato no 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 il bro vuole prendere la mira meglio no 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 scappa tomi scappa più veloce cos'è qua un cartello di spazio nell'inventario attento domi ma basta oh mamma mia dove lascia pensare aia cosa mi ha tirato vedi vedi l'avarizia che chi troppo vuole nulla stringe ormai mi dispiace ma si è capito chi è il master di queste vabbè allora senti domi sei morto due volte per colpa nostra che siamo troppo sceni quindi immaginiamo che è diventato notte che è combinato non lo so aspetta che metto giorno io aspetta va bene che ti stai facendo ottimo 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 sono trovato tutti i blocchi che mi servivano io non vedo niente ma un letto domi che è esploso non neanche io vedo ciao mi sono caccato sotto bro anche io sono esploso senza vederlo perché sono esploso quindi ho vinto no io sono vivo ma guarda che manca ancora cat ma dove sei e sono sotto perché è successa un'esplosione assurda e sono vivo non so come me ne ci andate come sono vivo non lo so domico ho vinto e vabbè ma gli è suonato il cavallo volante 2 1 0 gg troppo forte ma non puoi rimborsare mai che mi dispiace chetta dovevi essere il sensei il maestro calmo 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 eccola è arrivato il suo revenge arc l'arco narrativo della vendetta di dottor chetto faccio un casino sparo tutti chiedetemi scuola io ho un po di ender per questo chetta mi sa che è buonissimo è buonissimo questa cosa stai morendo soffocato lo so però aprono tutti i barchi io volevo minacciarvi ma uno è finito in un box un altro è finito in un altro pezzo della mappa pecore sono cadute pecore non toccare le mie pecore siamo io contro te sì che in acqua i creeper l'unica cosa che fanno e non fare esplodere ma il danno lo fanno comunque che 2 2 0 sempre che che mi dispiace ok ci siamo io ho paura a scavare ancora nel mio pillar che ho trovato il piccone dell'eroe quindi sono fortuna io ho trovato 8 quadri io qualcosa mi piace questa cosa ho trovato ragazzi ragazzi vi propongo uno scambio chi è che vuole allearsi con me gli posso dare una spada dell'eroe aspetta il problema è non so come arrivare da te chetta ti vuoi alleare con me file a due punti non mi piace oddio non sto volando voglio vincere da solo no 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 come esco come non so uscire non so uscire io ok non ho blocchi non ho niente si 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 ha ucciso un giga proiettile esplosivo mortale a me lo hai in ville goto si torna in vantaggio si positiva mi hanno dato diamanti smeraldi fuochi d'artificio mi hanno ucciso i fuochi d'artificio sei costruiti come fuochi d'artificio proiettile e dopo esserci rimescolati perché voi non lo sapete ma off camera ci sono state delle accuse delle accuse di avere i lucky block truccati secondo me si almeno un pochettino ce li hai truccati oddio c'è un baby philly che bellino che me l'ho fatto com'è io ho trovato dei libri mi sa che veramente sta torna un po' sfigata che cosa un pesce sono morto vedi che non è la torre sei tu che sei secondo me è tutta colpa tua aiuto una torre di maiali che mi occupa tutto oddio dammi oddio sto frutto no 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 cosa no 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 è solo un gioco cat due punti filipi filipi ci vediamo la game switch ma che c'entrò filipi con i like infatti no è solo un gioco ci vediamo la game switch ce la mostrere cosa è un gioco facciamo un gioco uno vi uno dal vivo esatto facciamo i lucky block dal vivo allora questa volta non si sono voluti scambiare il riposto oddio ma perché è sempre a me no 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 sono vivo sono vivo non chiedimi come sono vivo no non conta maestro ma lei ha dei poteri incredibili mi insegni io sono divino ho una seconda mia perché sono divino e sono il peggio di tutti va bene ooo interessass allora non chiedimi come sono vivo ma la tirapia nooo cosa? è un incognito fortunato mamma mia mi sento malissimo ma sei vivo? si te l'ho detto che sono vivo ma come sei vivo? ma mi sono perso qualcosa è perché c'era dell'acqua e quindi mi ha aiutato ma io non ci... che... 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 ti stai impazzendo completamente io lo sto risalendo piano piano perché non ha senso stare lì sotto è buona fortuna nel fare la tua risalita ma perché sei esploso? il timing no veramente no 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 c'è qualcosa sotto domi tutta colpa tua secondo me po 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 avevo ritrovato le enderperle un attimo prima che potesse prendere le enderperle sono intervenuto io siiii no ho sbagliato le enderper che cos'è stai controllando scusami? ma no no ripedi pensavo che avessi lucky block con fortuna 0 a noi e tu in 100 va bene cioè ti sei messo è la terza volta 3 round di fila che controlli tu ora rompi un lucky block guarda rompi un lucky block vediamo dai no niente se in molivi godevo un botto vabbè ehi dai no 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 mi amica per cattiveria che mi avrebbe fatto molto ridere no 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 un attimo un momento domi un momento guardami un attimo allora fortuna dobbiamo un attimo parlare perché non collabori? ma stai parlando con un gatto bro esatto oddio oddio è un mare che sono sotto l'acqua no mi porto il fuolo davanti oddio vedi il ritene degli altri oh forse si salva non ci credo si è salvato sei fortunato sei fortunato hai visto a parlare con la bro fortuna si un po' di fortuna ogni tanto effettivamente ci vuole ti do ragione io mi sto un attimo farmando un po' tutti questi blocchi che sono comunque un bel po' e mi possono tornare utile e poi incomincio la mia discesa verso la sfortuna ormai li possiamo chiamare così sti lucky block è una mucca fortunata l'ho uccisa e vabbè le mucche fanno mu ma una fa mu questa cosa mi piace no i miei cani e vabbè uuuu ok o uuuu ok ma com'è la lucky sword a zero di fortuna no dai è il penultimo round tranquillo no 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 per me vuoi risponare per me vuoi risponare senza no ma non vale così sono un gatto nove vite Eh vabbè A quale ronde siamo ormai Non lo so a 5.000esimo Ormai non abbiamo più contato Hai ragione Fili Ormai non abbiamo più contato Filipecora Hai ragione a quello che hai detto È effettivamente vero Filipecora Filipecora Vieni qua Vieni qua Filipecora Sono morto Bomboclut Sono vivo Vieni qua Vieni qua Entrato nel suo prime Ho terminato il suo abbonamento Oh delle frecce Mi arrivano delle frecce Mayday È pazzo È pazzo Oddio quanto mi ha levato Ho bisogno di cibo per favore Cat Vuoi combattere arco contro arco Perché ho appena trovato l'arco dell'eroe Ne sei sicuro? Signor sì Io sono sicuro Va bene Va bene Accetto la sua sfida maestro Accetto la sua sfida Aia Aia no Cat vendicami per favore Però merita per quello che ha fatto su di me Dove è finito? Ecco lì dietro ho shiftato Abbiamo un problema Abbiamo un problema Chi è qua? Ah no sei tu Ciao Filipecora Ah no perché è io Filipecora Potrei chiederti un favore Sì Ma non è che per caso mi dè del cibo Ma che cibo? Se sono morto tre secondi fa Vai in creativa Tanto Cioè È andato pure l'inclinati Mi hai chiesto a vendicarmi Vendicarti Dai Filipecora Per favore Un attimo Arrivo Fallo per me Io ti ho ucciso in maniera legit Tieni Fallo per il nostro No no cibo 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 Sono cibo normale Cibo tieni tieni Questo è cibo normale Ma perché è in pazza? È perché c'è lo slime block Tieni Va bene Ok Grazie mille apprezzo Prego Tanto gli stai andando andare pure lui Vero? No 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 Non gliele do Gli devi meglio? Io ti vedo che sei lì indietro Che confabuli Cosa stai confabulando? Niente Cosa gli hai dato? Niente Niente Non gli hai dato nulla Oddio No ti ho salvato Ti ho salvato sappi lochetta Ti ho salvato Non mi interessa Infatti se ti prendo È ovvio che non ti interessa Ti killo Ho bisogno di lucky block Devo di nuovo scendere verso il bus Oh blocchi blocchi Mi sto annoiando e voglio giocare Per favore Va bene Va bene Fili Grazie A disposizione Sto arrivando Pasticcino alla crema Mi dispiace Ma la mia armatura mi dà tipo speed Allora Domi Demi Mi sono salvato non so come Sono molto giù Ho trovato diamanti Grandi 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 Grandissimo Bravo Maggia meno più Maggia meno più Ok Cat perché non parli più Mi odi Cat noi siamo amici da tanto No Cat non parla più Sei un po' preso sul personale Secondo me Va bene Allora vi potete rifare nell'ultimo Sì dai facciamo l'ultima L'ultima è bella Chi vince Chi vince l'ultima vince tutto Ultimo round Oddio No no C'è qualcosa che non va Perché è possibile Primo lucky block Mi becco la TV Cosa ridi Con quella risata brutta Io e te contro Domi Ma te ne vai Ma cosa no Ti aiuto No 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 Te ne vai Cosa sta succedendo Oddio ragazzi Ragazzi sono finito a Milano C'è la nebbia Ma come devi star a Milano Via Time set day Grazie Fatto Ma sono invisibile Te ne vai Perché è tuo questo Sì Ah questa Ho più Quattro cuori per sempre Mi piace Questa cosa Fini sto continuando a morire Va bene Fini Per favore Allora Mi pone qua nel tuo lucky block Cat Che quel silenzio improvviso Ciao No tu fatti Non è che hai altre scelte tu ormai Ora quello che puoi fare è decidere se far vincere chi ha dominato finora O se aiutare chi finora non ha dominato Aia Domi Domi Mister dominato No vabbè No Era bellina come battuto No io ti odio Io sto perdendo Io sto perdendo il mentale Sparo la breccia E sto in mezzo Fini devi capire che Cat è molto competitivo Devi lasciarlo giocato Abbastanza Devi lasciarlo giocato Hai vinto bro E ho trovato l'arma pure più forte del gioco No no adesso tu devi vedere cosa avevo trovato Guarda cosa ho trovato appena si è esploso Usa questo piccone Usa questo piccone Guarda quante OP Mi fa evitare di morire Eh ma non puoi Mi posso stare con tranquillità Vabbè GG Quindi Sono il campione